Saranno più vicine Napoli e Istanbul grazie all'aumento del numero dei voli che collegano il capologo partenopeo con la capitale della Turchia. Quest'anno infatti la linea aerea Turkish Airlines ha deciso di puntare sul Napoli con un incremento dei voli del 50%. Lo ha annunciato il management team dell'azienda nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nelle sale del comune alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri. Salgono così da 12 a 18 le frequenze settimanali che collegano la città partenopea con la Turchia e più in generale con il mondo intero. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di questa nuova connessione tra Napoli e lo scalo turco che è l'hub più importante sulle rotte per il Medio Orente, aree importanti per l'incremento del turismo. Questo ulteriore passo fa parte proprio di questo percorso che stiamo portando avanti per migliorare la connessione verso mercati del turismo di fascia alta che significa portare a Napoli turisti che spendono di più, che hanno una permanenza più lunga in città e aprire anche nuovi mercati. Il fatto che ci sia questa grande richiesta di Napoli da parte anche di connessioni internazionali molto significative insieme a quello che sta avvenendo anche con la connessione sugli Stati Uniti su cui si stanno incrementando i voli è segno che Napoli sta realizzando quel salto di qualità che noi vogliamo. Grazie a tutti.